Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento settimanale. Come vi ho anticipato avrei iniziato dei video ricordanti il trattamento e il benessere. La settimana scorsa ho fatto un'introduzione, in generale trattamenti e alcuni consigli. Oggi vorrei illustrarvi velocemente un sito interessante che suggerisce come raggiungerlo. Ora andiamo direttamente. Eccoci qua, l'ho visto a leggere tutto, ma direi di scorrere velocemente, giusto per fare un'introduzione al tutto. Qua è l'introduzione, finisce il benessere, stare bene, allenando la mente, il corpo. Non bisogna faticare, riconoscere un fine di aspetto negativo, aspetto essenziale, invece funzionalizzare totale. Ok, la definizione di benessere, ora l'ho visto a leggere tutto, comunque dopo vi metto il link, così potete andare a vedere. Comunque questo è solo uno di tanti siti, però come inizio ci può stare elementi essenziali, ok, patologie, utilità motoria, quindi psicomotivo, atteggimento positivo, come dicevo l'altra volta, malattie. Ok, metto il proprio agio, ecco qua, da una piccola parentesi su alcune malattie, non sarei qua tanto a leggere più che altro, giusto per far capire un attimino, ok, funzionalità, articolazione, di mento del suo muscolo, quindi si fa una piccola introduzione proprio al corpo umano, ora lì leggermente medico, non trovo proprio una cosa basilare, però giusto per avere un'idea dopo ovviamente, andare da persone che lo fanno di mestiere, dieta e benessere, bilancio energetico, molto interessante come sito, mente, equilibrio, persone emozioni, consapevolezza, abitudini, meditazione, ecco, avevo anche fatto una live sulla meditazione, nel caso qualcuno non l'avesse vista, vi metto poi il link, meditazione in generale, giusto per fare capire i tipi di meditazione, perché in realtà ho lavoro lungo, capacità terapeutica, ok, disagio considerevole, potrebbe essere supportato l'intervento, analista, ecco qua, quando c'è qualcosa che non va ovviamente, bisogna cercare di sistemarlo, atteggiamento positivo, ah, questo signore qua, laurato in scienze vuttori ed editista, poi, qui abbiamo anche altri link, può essere interessante, questo è una coaching, aggiornamento nervoso, eccetera, eccetera, sì, vabbè, pam, ci passano altre cose che, dieta problematiche e altre cose che al momento non interessano, torniamo a noi, proprio una piccola parentesi veloce, ecco, ovviamente, ci sono tanti siti, dopo ci sono anche i canali YouTube, dove si può informare, dove ci sono personal trainer, e anche in qualcosa di ambito medico, ma, eh, questo qua a livello generale, mhm, personale, però purtroppo, eh, uno può anche cercare di fare una dieta equilibrata, una vita sana, equilibrio psicofisico, eccetera, eccetera, però, eh, nella vita, ci sono delle aggressioni esterne, a volte volute, a volte no, che vanno lì fuori da quello che è il concetto, normale di benessere personale, e quindi bisogna porre rimedio, in qualche modo, bene, direi che per oggi, come spolverata, ci sta abbastanza, potete leggere tranquillamente, tutto con calma, era solo, per darvi una piccola idea, ok, noi ci aggiorniamo, a settimana prossima, grazie dell'ascolto, buon fine settimana, e tra l'altro, mmm, sarà, allora, no, non è l'appuntamento, l'appuntamento, quello prima di Natale, prossimo giovedì, faremo gli auguri, di Natale, ce ne sarà ancora uno, prima di fine anno, bene, grazie dell'ascolto, ci aggiorniamo, tra sette giorni.